Marcello Ametrano si è dimesso da presidente dell'Aliele. La lettera delle dimissioni irrevocabili e con effetto immediato sono state presentate protocollati al CDA della società lo scorso 28 febbraio. Il documento è stato reso noto solo questa mattina nel corso della prima udienza del processo aperto presso il Tribunale di Vallo per discutere della presunta incompatibilità di Ametrano. Il caso ricordiamo è stato sollevato dal Movimento 5 Stelle con un'azione popolare per far chiarezza sugli incarichi che il neoconsigliere provinciale riveste attualmente nel Cilento. Ametrano attualmente è consigliere comunale di Vallo, assessore ai lavori pubblici e presidente del consiglio di amministrazione della società Iele, gestore del servizio rifiuti nello stesso comune. Il Tribunale questa mattina si è riservato ogni decisione dopo la presentazione di alcune eccezioni da parte degli avvocati dell'ex presidente della Iele. Piera soddisfazione intanto viene espressa dall'avvocato Oreste Agosto, legale dei grillini vallesi. Noi abbiamo appreso stamane che il dottor Marcello Ametrano in data 28 febbraio 2017 ha protocollato, ha dichiarato espressamente di dimettersi irrevocabilmente dal mandato di presidente protempre della Iele. Ha presentato sostanzialmente le sue dimissioni. Quindi gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania che hanno tramite il mio mezzo proposto il ricorso, la cosiddetta azione elettorale, il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania ha raggiunto il suo scopo. È evidente che noi abbiamo evidenziato la sussistenza di questo conflitto di interessi dell'Ametrano come consigliere e come presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Ametrano non è più presidente? Non provvedimenti ulteriori della società di presa ad atto di queste dimissioni, non ne abbiamo contezza, né d'altra parte sono state protocollate dal difensore dell'Ametrano. Sta di fatto che da questa nota, da questa sua dichiarazione espressa, non è più presidente del Consiglio di Amministrazione. Dimissioni che al momento sono sulla carta, scritto in rosso e bianco. Irrevocabilmente, sono dimissioni irrevocabili del dottor Marcello Ametrano. Quindi queste dimissioni hanno un po' anticipato quello che poteva essere il risultato di Amministrazione? Sì, perché a seguito del nostro ricorso, in base al testo unico degli enti locali, l'Ametrano aveva 10 giorni di tempo per evitare la causa di rendere le dimissioni irrevocabili. Quindi il risultato è stato ottenuto.